E dov'è che vado? Vedete mio figlio, è stato rapito. Sì, mi hanno portato via mio figlio. No, dategli. Quando è successo? No, 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 ragazzi, non mi va di far male. Ti prego! Eh, va bene. Io vivo sulla barriera corallita. Mi ho sposto molto, molto lontano da qui. Che bello, sarà una storia vincente. E mio figlio? Nemo. E se non fossi sempre stato così severo con lui? Non sarebbe successo. Comunque si è spinto al lago fino ad una barca. E mentre era lì sono arrivati di su. Io ho cercato di fermarli. Ma la barca era troppo veloce. Allora lui... La storia comincia adesso.